Dopo cinque anni dalla partenza della costruzione del fucile semiautomatico siamo riusciti a conquistare nuovi mercati, piccoli mercati, in tutta Europa, nella Russia e adesso siamo riusciti ad entrare anche in America. Il nostro nome è conosciuto perché come fabbricanti di repliche, come fucile da caccia è un nome poco conosciuto e dobbiamo riuscire a dare credibilità al nostro nome in questo settore. Facciamo molta fatica perché ci scontriamo con grossissimi nomi, con grossissime compagnie e sicuramente essendo un periodo di crisi questo non facilita il nostro lavoro, però crediamo molto in questo progetto e nei prossimi anni speriamo di fare grossi passi in avanti, però siamo contenti di come sta andando il nostro fucile semiautomatico. Noi facciamo due modelli, la versione inerziale e la versione recupero di gas. Siamo gli unici effettivamente a fare tutte le due versioni e è un po' un nostro orgoglio. I fucili esternamente sono identici, si distinguono solo per il nome e per il meccanismo interno.